I 52 punti sono tanti perché abbiamo finito l'anno scorso a 51 e mancano ancora cinque partite però non è tempo di bilanci. Il bilancio dovremmo farlo dopo la partita con la Lazio che sarà l'ultima cercando di prendere il più possibile passando chiaramente attraverso quello che siamo noi la nostra identità e quello che abbiamo fatto in questi tre anni. Noi gli obiettivi abbiamo sempre detto che parlavamo della partita successiva e quella successiva oggi è l'Atalanta poi vediamo quanto arriviamo, vediamo chiaramente avendo la Roma a tre punti anche se è una squadra forte anche se rappresenta una piazza importantissima però è quello che ci sta davanti adesso è la Roma e dietro abbiamo un margine discreto quindi perché non poter pensare di far qualcosa di più. Siamo diventati più squadra, più maturi, più intelligenti, sappiamo leggere le gare prima e anche all'interno della stessa gara sappiamo modificarci. però con l'Atalanta è una partita che fa sempre storia a sé abbiamo perso spesso con risultati larghi può essere la nostra bestia nera ma l'Atalanta è la bestia nera di tante altre squadre l'Atalanta va a vincere a Milano 3 a 0 contro il Milan e se è a seconda in classifica un motivo c'è detto questo noi per scelta andiamo a giocarci sempre la partita a viso aperto anche contro l'Atalanta ma non solo anche la Juve, anche il Milan, anche l'Inter, anche la Roma, anche la Lazio, il Napoli con le nostre armi senza cambiare e se qualcuno pensa che si dovrebbe fare diversamente poi deve anche valutare se il mantenere fede alla stessa mentalità qualche vantaggio ci ha portato in questi anni. arrivare due anni ottavi subito dietro le prime sette e avendo a cinque partite dalla fine tre punti dalla settima che è la Roma io credo che allora questa identità, questa mentalità, questa idea qualcosa ci abbia portato. Se il prezzo da pagare è aver perso nel passato con l'Atalanta con risultati così pesanti non fa piacere sicuro cercheremo di migliorare facendo risultato però vuol dire anche che è stato il prezzo da pagare per poi fare due ottavi posti per vincere a Milano col Milan, per vincere a Napoli col Napoli, per l'anno scorso pareggiare in casa della Juve, per fare risultati anche con squadre più forti di noi di un certo tipo. Siamo molto diversi sia come idea sia come giocatori perché loro per esempio hanno una squadra molto esperta, non hanno tanti giovani, noi invece abbiamo 2000, 99, 98, 97, tanti anche. Però loro sono quelli che hanno lavorato meglio di tutti gli altri in Italia negli ultimi cinque anni, sono quelli che hanno fatto scuola a tutti, lo dico ogni volta che li incontriamo perché è quello che penso. Ma Raspadori ancora non si è aggregato alla squadra, Caputo sta lavorando a parte, abbiamo anche qualche problemino con Defrel, vediamo se lo recuperiamo per domani, poi tutti gli altri stanno abbastanza bene, sono pronti per giocare la partita. Caputo speriamo di rimetterlo con il gruppo la settimana prossima, e vediamo se per Genova sarà pronto per uno spezzone o per quella successiva con la Juve. È stata una perdita pesante per rinunciare a Caputo, pressoché tutto l'anno è stato fuori perché a parte le prime dieci partite, poi dopo ha giocato ma stringendo i denti e essendo sempre in difficoltà fisica. Adesso se Dio vuole sembra che sia uscito dal periodo difficile e sono contento se ritornerà in forma per noi, sicuro, per fare il rush finale al massimo, ma anche per lui perché essendoci l'europeo, essendo stato sempre convocato dalla nazionale, sarebbe un peccato non riuscire a star bene nel momento più importante della sua carriera. Ma sul mio futuro è molto veloce e semplice il discorso. Ieri ho parlato anche alla squadra, scrivono che ho firmato a destra, che ho firmato a sinistra, che ho l'accordo, che non ho l'accordo. Ho detto ai giocatori che i primi a saperlo saranno loro, assieme alla società mia, per correttezza e per riconoscenza anche, perché la riconoscenza è una cosa che a me non manca e dopo di che può essere la possibilità che vada via, come non ci può essere, poi vediamo e non è una questione di non dirlo per far sì che i giocatori tirino fino alla fine. I giocatori sono seri da andare avanti con me, senza di me e sono persone per bene, quindi non dipende da questo, ma sarò io a dirlo, non sicuramente un sito o uno scoop, perché scoop non ce ne sono, di segreti non ce ne sono, ma a me piace fare le cose in maniera chiara e corretta. Grazie a tutti.